di luigi pirandello romolo nelle società cosiddette civili o dette anche storiche la leggenda si sa non può più nascere potrebbe nascere e spesso anche nasce ma umile e striscia timida sarà il popolino l'umachella che ha gli occhi nelle corna e subito li ritira tra il bollichio della vana bava appena col dito rigido e sporco di inchiostro un professore di storia glieli tocchi crede il professore di storia che in quel suo dito rigido e sporco di inchiostro sia la santa verità e che sia un bene far ritirare le corna alla lumachella disigraziata e più disgraziati i posteri che avranno minuto per minuto documentati i fatti degli avi e dei padri che forse abbandonati alla memoria e all'immaginazione a poco a poco come ogni cosa lontana si inazzurrerebbero di qualche poesia storia storia figliamola con la poesia ecco qua senza lupo senza il fratello remo senza volo da voltoi romolo come ce lo fanno conoscere gli storici come l'ho conosciuto io ieri vivo romolo un fondatore di città e dire che a guardarlo bene negli occhi di lupo peccato si poteva credere benissimo che davvero una lupa lo avesse allattato bambino circa 90 anni fa il suo remo di fronte rivale quantunque non fratello lo aveva avuto davvero non l'avevo ucciso solo perché remo aveva pensato lui di morire prima a tempo da sé ma non andate ora a cercare nelle carte geografiche la città fondata da questo romolo non la troverete la troveranno i posteri di sicuro di cui a tre o quattrocento anni è anche segnata di so dire con uno di quei cerchietti che indicano le città caporuogo di provincia e il suo bravo nome accanto riparo che ciascuno dentro ci potrà immaginare le belle cose che vi saranno vie piazze palazzi chiese monumenti col signor prefetto la signora prefettessa se dureranno ancora questi saggi ordinamenti sociali e se un terremoto prima con aiuto di dio che castiga le ambizioni degli uomini non l'avrà fatta crollare dalle fondamenta ma speriamo di no per ora è più che un casale di già una bella borgata con presto due chiesine una è cosa qua stallo un tempo per consiglio di romolo adattata a chiesina con un solo altarino dentro di vecchio legno ingrassato al tamfo caldo delle tame e una stampa del sacro cuore di gesù attaccata al muro coi chiodini alla meglio si sa ma che importa Gesù ce la respira davvero qui dentro la sua natività da miglia e miglia lontano ogni domenica ci vede con la mula un prete addirmessa tutto sudato e impolverato d'estate intabarrato fino agli occhi e con l'ombrellone di seta verde d'inverno come nelle oligografie la mula legata per la cavezza l'anello accanto alla porta aspetta sbuffando e scaccinando per le mosche eculaie ecco qua in terra il segno delle scacciature povera bestia non lo sa che è ufficio divino le pare una gran seccatura e mill'anni che finisca l'altra la nuova sarà presto terminata e sarà una vera galanteria col campanile tutto tre altarini e il polpito e la sagrestia tutto insomma chiesa per davvero levanta di pianta per chiesa con un tanto a testa di tutti i borghigiani ora quando qui sarà città nessuno dei tanti figli di Elsa saprà di questo romolo primo loro padre come perché sia nata la città perché qui e non altrove sulla terra in un luogo non si riesce più a vedere questa terra e questo luogo come erano prima che alla città risorgesse cancellare la vita è difficile quando la vita in un luogo si sia espressa e imposta con tanto ingombro di pesanti aspetti case vie piazze chiese c'era il deserto un beato deserto qua uomini che come un nasso svolgevano la vita da lontano passarono allungando il nastro per questo deserto uno stradone e carri cominciarono poco a poco a passare nella solitudine per questo stradone e qualche uomo a cavallo armato che volgeva attorno gli occhi guardinghi dallo sgomento che si scoprisse per la prima volta a lui solo la vista di tanta solitudine così lontana e ignota a tutti silenzio intorno è aperto sotto la vastità cupa del cielo quando di qui a quattrocent'anni campanelli di tram elettrici tombe d'automobili squilleranno streperanno tra la confusione delle vie affollate illuminate da lampade d'arco con luccichi e sbaragli di vetri i specchi negli sporti nelle vetrine delle ricche botteghe chi penserà a una lampada sole in cielo la luna che nel silenzio e nella solitudine guardava dall'alto il nostro bianco dello stradone in mezzo al deserto sterminato e ai grilli e alle raganelle che qui scampanellavano soli chi penserà tra le chiacchiere pane nei caffè alle cicariche qui arrabbiate tra le stoppie segate segavano la vasta e ferma affa nell'abbagliamento delle eterne giornate estive carri uomini a cavallo qualcuno raro ai piedi passavano e tutti sentivano di quella solitudine uno sgomento che a mano a mano diveniva oppressione intollerabile che era avversi quello stradone lunghezza di cammino via da fare chi poteva pensare di fermarcisi un uomo questo vecchio qua allora sui trent'anni andando un giorno d'estate appresso ai pensieri che lo traevano fuori dal consorcio degli altri uomini a cercare nella solitudine la sua avventura ebbe il coraggio di fermare in mezzo a questo stradone l'ombra del suo corpo senti forse che in quel punto tanti come lui passando avevano avrebbero sentito il bisogno di un poco di riposo di un poco di conforto e d'aiuto e disse qua si guardò attorno a osservare ciò che prima aveva soltanto guardato con l'occhio distratto di chi passa e non pensa a fermarsi guardò col senso della sua presenza non per un solo momento qua ma stabile e si provò a respirare l'aria allora deserta a vedere intorno le cose come quelle che dovevano essere la sua aria e la sua vista di tutti i giorni e col coraggio che gli soggeva dentro per distendersi e imporsi attorno comparò la tristezza infinita di quella solitudine se il suo coraggio avrebbe saputo resisterle e durarvi quando, non ora, d'inverno col cielo aggrondato e il freddo nelle eterne giornate di pioggia si sarebbe fatta più squallida e paurosa parla per Apologhi il vecchio e narra che da ragazzo aveva una sorellina malatuccia e disappetente che faceva tanto penare la madre per contentarla ora un giorno mentre egli giocava per in strada coi compagni a un gioco furioso la madre che se ne stava seduta allo scalino davanti la porta lo chiamò perché piano piano con un sorsellino cauto si sorbisse da un uovo che è la tenere in mano la chiara soltanto non ben cotta la chiara soltanto di cui la sorellina malatuccia e disappetente aveva schifo ebbene con quel sorsellino che avrebbe dovuto scorronare l'uovo appena appena egli nella furia del gioco interrotto senza farlo apposta si era tirato dentro tutto nuovo chiara e zorro tutto quanto lasciando con tanto d'occhi sbarrati per la sorpresa e il guscio in mano vuoto la madre e la sorellina lo stesso era qua però stradone quando disse qua non aveva certo in mente questa borgata d'oggi la città di domani pensava che sarebbe restato sempre lui solo a offrire aiuto a tutti quelli che sarebbero passati di là ma dentro quel suo primo respiro tratto in mezzo la stradone non c'era soltanto aria per un solo tetto di paglia c'era dentro l'aria per tutta questa borgata d'oggi per la città di domani e tanto era stato il suo coraggio nel levare quel primo tetto di paglia che altri per forza dovevano sentirse ne attirati quando però una necessità non pensata si pare davanti a un'illusione questa necessità ci sembra un tradimento ecco qua dopo che lui sfidando gli orrori della solitudine per mesi e mesi solo era rimasto a far fermare davanti a quel suo tetto di paglia i carri che passavano e poi levata poco a poco la casetta di pietra e fatta venire la moglie coi figlioli era riuscito a far sedere sotto la pergola i carrettieri a bere il vino di cui una bottiglia di saggio pendeva appesa con una frasca di insegna alla porta e a mangiare in rozze scodelle campestri i cibi cucinati dalla moglie mentre egli attendeva a riparare una ruota o una molla a qualche carro o a ferrare la mula o il cavallo un altro era venuto sullo stradone un po' più giù a levare contro la sua casa un'altra casa perché un paese ora il vecchio lo sa bene lo può dire per esperienza un paese nasce così non è mica vero che gli uomini si mettono insieme per darsi conforto e aiuto a vicenda insieme si mettono per farsi la guerra quando una casa sorge in un punto l'altra casa non le si mette mica accanto come una compagna o una buona sorella di fronte le si mette come una nemica a toglierle la vista e il respiro egli non aveva il diritto di impedire che un'altra casa gli sorgesse di fronte la terra su cui sorgeva non era sua ma questa terra prima era un deserto che vita aveva la vita gliel'aveva data lui e l'usurpazione e la frode che quell'altro era venuto a commettere non era della terra ma della vita che egli a questa terra aveva dato qua non è tuo poteva soltanto dirgli quell'altro sì ma che era qua prima per te poteva dirgli lui e ci sareste tu venuto se prima non ci fosse venuto io qua non c'era nulla e tu vieni adesso a rubarmi quello che ci ho messo io troppo però veramente doveva riconoscerlo troppo ci aveva messo per uno solo tutti i carri che passavano spesso in lunga fila si fermavano la ora per una sosta abituale la moglie non riparava a servire tutti e non si reggeva più in piedi dalla fatica anche egli quelle due braccia sole che Dio gli aveva date non se le sentiva più la sera dalla stanchezza c'era dunque posto e lavoro non solo per un altro ma anche forse per tre o quattro altri il vecchio ora dice che l'avrebbe preferito tre o quattro altri insieme sarebbero stati compagni e si sarebbero diviso il lavoro e sua moglie forse allora non sarebbe morta di fatica ma quell'uno fu per forza nemico un nemico da respingere anche col coltello in pugno dalla vita che egli aveva fatto nascere su quello stradone e che era sua di fronte a tre o quattro altri insieme egli avrebbe cercato e stabilito un accordo e certo sarebbe stato da essi riconosciuto e rispettato come il primo e come il capo da quell'uno dovette invece a caritamente difendersi la vita per non lasciarsene prendere nulla o quel poco soltanto che alle sue braccia non riusciva più a contenere ma l'effetto fu questo che gli morì la moglie dalla troppa fatica Dio dice il vecchio adesso alzando la mano con l'indice teso e lascia nell'ombra i casi e gli eventi passati di cui riconosce in Dio la causa e dunque l'obbligo per gli uomini da accettarli con obbedienza e rassegnazione per quanto dolorosi e crudeli possano imparere i casi passano e vanità è ricordarli di fronte a questa certezza che la giustizia di Dio trionfa sempre Romolo non può parlare altrimenti deve riconoscere Romolo che fu giustizia di Dio la morte della moglie che Dio cioè con questa morte lo volle punire del suo voler troppo perché alla fine il trionfo della giustizia divina Romolo deve additarlo in lui che morto Remo ne sposò in seconde nozze la moglie e perché morì Remo? ma anche lui per punizione di Dio per una gran paura che Dio gli mise addosso morì perché comprese che l'uomo a cui egli era venuto a mettersi contro ora strontato dalla morte della moglie avrebbe certo rovesciato su lui il furore della sua disperazione poteva Dio permettere che una sua punizione diventasse soverchia e dunque giusta lasciando che quell'altro profittasse di quanto ora lui era venuto a mancare con la morte della moglie? la punizione che era dolore per lui doveva essere paura per quell'altro e tanta fu che ne morì Romolo non dice altro soggiunge però che allora nelle due case di contro poporate tutte e due di figlioli a cui finora non era stato mai concesso da accostarsi gli uni agli altri per mettere insieme i loro giochi nelle due case di contro restarono qua un uomo senza donna la una donna senza uomo e l'uno vestito di nero vide dell'altra vestita di nero e nel cuore dell'uno e dell'altra ecco che Dio allora fece sbocciare la carità un reciproco bisogno d'aiuto e di conforto e la prima guerra finì Romolo tentenne il capo e sorride vede in mente come dopo le prime due nacquero le altre case di questa borgata quando i figlioli da una parte e dall'altra crebbero e alcuni fecero nosse tra loro e altri portarono da lontano chi la moglie chi il marito ah una di qua una di là quelle case non propriamente nemiche no scontrose le spalle non se le voltavano ma l'una si era messa un po' di fianco e l'altra un po' di traverso come se tra loro non volessero vedersi in faccia finché con l'andare degli anni tra questa e quella una terza non sorse in mezzo come il pacera a riunirla per questo dice Romolo le strade antiche dei piccoli paesi sono tutte storte che ogni casa gli scantona per questo sì ma poi viene a Romolo la civiltà con piani regolatori che obbligano le case a stare in riga la guerra allineata tu dici sì ma civiltà vuol dire appunto il riconoscimento di questo fatto che l'uomo tra tanti altri istinti che lo portano a farsi guerra ha anche quello che si chiama istinto gregario per cui non vive se non coi suoi simili e or dunque vedi da questo tu concludi se l'uomo può mai essere felice grazie 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 grazie